Chi è che tira l'altro fai? Ascia l'ho bello, perché cromatico? Vabbè l'ho più dritto, credo che c'è più dritto Sorriore con un fai, dai degas! Dai quanti sono lì sopra? No, lì c'è la massima tecnologia che abbiamo sul mercato dell'agricolo Fend 818 con il cambio Vario Il mondo è bello perché è Vario Ma il Vario è bello perché è Fend Infatti ha fatto un gran tempo, 21 e 14, questo è un gran tempo Cioè ci ha messo più di tutti gli altri, un gran tempo questo qua Ma sicuramente era un motore esavorante, erano i 6 lì sotto